youtube siamo qua ad Azzate e facciamo un'insalata esotica che spacca la faccia! oggi mia mamma ha deciso di fare una salata con frutto tropical con camarones, abacati e altre cose in onore del Brasile cominciamo subito l'insalata i gamberi li ho cotti nella padella bollente sfumandoli col cognac sale e olio faccio un tempero ai nel camarone e vai ficare buono manga! la manga del Brasile è meglio ma questa anche è buona avocato abacati polpelmo rosso spellato vivo questa frutta non so come in portuguesa non come nel Brasile ha detto che nel Brasile non esiste erbe menta, erba cipollina e sedano peccolini, peccolini, peccolini traduci menta ragazzi metto intanto i condimenti il sale lo cacciamo un po' così adesso continuiamo collocando un pochino di lime non si dice collocando in portoghese si dice collocando posso? un pochino di olio oh mamma mia e questa è l'insalata in onore del Brasile alla prossima ricetta fatela perché questa spacca la pazza in portoghese chebra cara chebra cara eh chebra 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 chebra